Io non so se voi vi siate mai chiesti perché il titolo dell'episodio 6 di Guerra Stellari sia Il ritorno dello Jedi, anche se Jedi si pronuncia Jedi, in inglese è Jedi. Io non saprei elencare quali sono i nomi delle dita dei piedi a esclusione dell'alluce, ma l'ospite di Fahrenheit lo sa. Vera Gheno, buon pomeriggio. Ciao a tutti, eccomi qua. Allora, Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale traduttrice dell'ungherese, ha lavorato per vent'anni con l'Accademia della Crusca nella redazione della consulenza linguistica, con sprezzo del pericolo ha gestito l'account Twitter della Crusca Medesima, attualmente collabora con la casa editrice Zanichelli. E tra le molte cose ha scritto ora per Newton Compton, prima l'italiano, come scrivere bene, parlare meglio e non fare brutte figure. Quello sprezzo del pericolo, Vera Gheno, che lei ha già dimostrato in altre occasioni, si dimostra anche qui, perché lei non teme di affrontare argomenti terribili come l'uso del piuttosto che, l'uso delle die eufoniche, l'uso della parola, l'uso della e all'inizio della frase. Sono tutte contenute in questo libro. Sì, sì, è verissimo, è una sorta di summa di tutto quello che ho raccolto in tanti anni a fare la consulenza linguistica della Crusca, ma soprattutto a aggeggiare con il Twitter della Crusca, perché al di là dello studio e della riflessione, la cosa veramente interessante per me, dal linguista, è stata quella di stare a contatto con le migliori e le peggiori idiosincrasie degli italiani. E quali sono le peggiori idiosincrasie degli italiani, che sono di tipo linguistico? Io già sto pesando le parole in questo momento, sto pesando anche le sue, perché non so mai cosa devo aspettarmi. Allora, intanto sicuramente sbaglierò qualcosa e qualche solerte ascoltatore farà notare che non ho detto tutto come bisognava dirlo e questo è normale, ma è anche la cartina di tornasole di quello che sto cercando di spiegare. Io ritengo che ci siano dei validi motivi storici per far sì che oggi noi siamo così, diciamo, allergici o delicati, ecco, nei confronti degli usi linguistici. In sostanza io noto una sorta di schizofrenia che è presente un po', alberga un po' in tutti noi. Allora, da una parte se facciamo noi degli errori, vabbè, eravamo distratti, è ovvio che non l'abbiamo fatto, cioè non è una cosa seria, non è una malattia seria. Quando l'errore lo fanno gli altri lo usiamo proprio come indicatore di imbecillità. Quindi se uno scrive poco l'accento, se uno scrive, mette male le dieufoniche, è per forza un minus abens, no? Cioè un giudizio sociale molto molto forte proprio su questioni linguistiche. E quindi ci si può lasciare, si può cambiare fede politica per un po' con l'accento anziché con l'apostrofo? Allora, sicuramente si può avvenire crocifissi o lapidati sulla pubblica piazza. Del resto lo vediamo anche sui social network. Uno dei divertimenti sommi sparsi per i vari gruppi è quello di fare una foto della schermata, ovvero screenshot, mi perdonino gli talofoni, di un errore magari abbastanza marchiano fatto dalle persone e poi esporlo appunto a pubblico ludibrio e quindi commentare tutti insieme, ah guardate cosa ha fatto e così via. Senta Veragheno, da sociolinguista, secondo lei questa, diciamo questa durezza, qualcuno parla di grammar nazi, so che è una parola che non le piace, infatti lei propone una mutazione in grammar amanti. Ecco, perché questa, diciamo questa avversione che non è semplicemente un amore per la correttezza? Tante volte capita di sentire, non mi piace questa parola, a me è capitato di discutere con chi, con una persona perché ho usato la parola tosta. Allora, tosta è brutto, è qualche cosa che dà fastidio al mio orecchio, non parliamo di femminicidio, non parliamo dell'uso delle desinenze finali declinate al femminile quando si tratta delle professioni. Ecco, ma cosa ci è successo? Perché siamo diventati così sensibili al linguaggio? Non lo so, io da una parte penso che lo siamo un po' sempre stati. Chiaramente l'effetto collaterale della discussione pubblica che adesso è in corso sulla lingua, soprattutto tramite appunto i social network, è che queste discussioni si vedono molto di più. Magari prima ne parlavamo un po' come dice Umberto Eco al bar, oppure intorno alla tavola mentre si mangiava così con i colleghi, invece tutto questo adesso si è spostato in rete. Quando parlo di motivi storici intendo anche dire che siccome siamo arrivati piuttosto tardi a prendere in mano la nostra lingua, quindi a parlare l'italiano, si sta parlando degli anni sessanta, tutti ricordano il maestro Manzi e così via. Allora, quello che praticamente in altre lingue è successo nel corso di più secoli, cioè una mutazione continua dovuta alla pressione dei parlanti, in Italia è accaduta tutta insieme dagli anni sessanta in poi, che in termini di diciamo evoluzione umana sono un bruscolino, una quisquilia. Allora, questo ci ha messi un po' sulla difensiva rispetto alla nostra lingua, per esempio i cambiamenti non ci piacciono granché, eppure una delle prime cose che succedono quando tante persone iniziano a parlare una lingua è proprio che la lingua inizia a togliersi di dosso un po' i cascami magari del passato, no? Per esempio a togliere ciò che i parlanti non sentono più come particolarmente utile, faccio un esempio, il futuro anteriore o il trapassato remoto, non che siano scomparsi del tutto, ma ammettiamo che nella lingua di tutti i giorni non li usiamo un granché, oppure parlando anche le persone colte rarissimamente usano egli, usiamo lui, anche se sappiamo che lui in posizione soggetto tecnicamente sbagliato, cioè in un tema a scuola, a me lo segnano sbagliato. Senta, ma prendiamo il toro per le corna, visto che stanno arrivando già messaggi in questo senso. Certo. Per esempio Enrico dice, io sono colto dai stinti omicidi, quando mi imbatto nel piuttosto che maladoperato, io le confesso che noi conduttori di fare nel tema di Radio 3 riceviamo molto spesso sollecitazione a alzare dei cartelli quando l'ospite usa un piuttosto che non nel senso in cui andrebbe adoperato. I tuoi cartelli non li possiamo alzare, è molto brutto anche dire all'ospite ma cosa sta dicendo, usi bene quel piuttosto che. Mi spiega, qual è il motivo per cui tante persone saltano in aria appena trovano un piuttosto che mal usato? Allora, praticamente l'errore è usare il piuttosto che in modo disgiuntivo invece che avversativo. Praticamente quello che succede è che uno lo usa al posto di O, magari in sequenze, giusto per chiarire per tutti. Quindi stasera mangerei risotto piuttosto che pizza, piuttosto che bistecca. Qualcuno già si è sentito male. Ecco, infatti capisco perché anche a me dà un po' fastidio. Il motivo principale per cui a me dà fastidio è che non è chiaro, no? Non è chiaro cosa si voglia dire. Cioè voglio dire invece di o voglio dire o. Addirittura in una fase più avanzata di questo morbo c'è anche chi lo usa come E. Quindi quest'estate sono stata al mare piuttosto che in montagna, piuttosto che in collina per dire E, E, E. E quindi, come dire, la confusione regna sovrane, sovrana. Casomai possiamo chiederci come mai è così popolare. Allora è così popolare perché viene da Milano. E Milano... E quindi ci riconnettiamo a quanto detto poco fa. Ecco, infatti c'è un filo rosso, stavo ascoltando prima. Milano è un polo linguistico di prestigio. Quindi quello che viene dal milanese è percepito come qualcosa di prestigioso. Ed è il motivo per cui, piuttosto che, lo troviamo anche nell'eloquio di persone di altissima cultura. Cioè non è l'errore marchiano della persona che ha poca competenza linguistica. È al contrario. E allora, se lo sento usare in televisione, lo sento usare in radio, lo leggo sui giornali, beh, deve voler dire che proprio sbagliato non è. No? Il retropensiero è un po' questo. Vorrei fare un paragone con un'altra cosa che invece destra grande hilarità, che è l'uso transitivo dei verbi intransitivi. Quello tipo uscire il cane. Sì. Ecco. Quello invece, normale, se io dico esco il cane, salgo la borsa, entro la macchina nel garage e così via, mezza Italia fa una sollevazione popolare e dice meridionalismo è brutto, haha che risate. Allora, lo status di questi due errori è singolarmente diverso, proprio perché uno è un milanesismo e uno invece è un meridionalismo. Questo purtroppo è l'ennesima dimostrazione di come, come dire, il peso delle varie parlate regionali non è uguale. Senta, ma, allora, facciamo un ragione, poi arriveremo a parlare di errori, di come accogliere, certamente anche di come correggerli gli errori, perché il suo libro parla poi di questo. Sì. Però, se io dovessi dire, uso molte virgolette, ascoltatori di Fahrenheit, deponete la tastiera. Veramente lo sto usando come esempio, a me e me, ok? Ho detto ok e già ho sbagliato. Dico, però, se io dovessi dire a me e me, ovviamente cadrebbero alla macchina per gli sms, per l'indignazione. Ma lei ha fatto un esempio in questo libro, vera Gheno? Che è insospettabile. Chi è che ha usato a me e me? Eh, mi pare di citare, come al solito, Manzoni. Eh sì? Sbaglio, ecco. Non ci sbaglia. Ok, ok, no, perché il mio... Quaggina 190, se non ricordo male, esatto. È il mio preferito, questo era quasi un esame. Ecco. No, perché per molte cose Manzoni è molto più tollerante di noi. Fra l'altro ne parlavamo a un convegno internazionale un po' di tempo fa, e una delle teorie che è venuta fuori è che Manzoni, forse non tutti sanno che Manzoni era bilingue, e quindi con i suoi amichetti, quando parlava di questioni culturali, parlava in francese. Allora, è un po', è un dato noto che chi è bilingue tende anche a essere più elastico rispetto, diciamo, alle rigidità normative date da qualsiasi lingua. Non è un caso, secondo me, che in Manzoni non solo troviamo a me e me, troviamo l'imperfetto nella forma se Renzo, se Lucia non faceva quella domanda, invece che se Lucia non avesse fatto quella domanda, e troviamo anche gli usato al posto di loro, quindi gli chiese invece che chiese loro. Quindi per certi versi era molto moderno. Era molto moderno, adesso se la prenderanno anche con Manzoni, perché le hanno appena detto, l'hanno riproverata perché le ha detto in qualche modo, come diretto. E poi dico anche spesso, in realtà, infatti sto cercando di depurare la mia parlata da tutte queste interiezioni, ma ahimè è molto molto difficile. Allora, ma è così necessario? La domanda non è provocatoria, lo giuro. Perché lei, diciamo subito, che in questo libro fornisce nei fatti molti suggerimenti su come parlare e scrivere meglio, con esempi molto pratici e con 11 categorie di errore. Le elenco velocemente, errori che ti fanno passare per ignorante. Apostrofi, accenti, articoli, forestierismi, grafie, maiuscole e minuscole, non capirci un H, pronomi, punteggiatura, verbi, pronunce, povera me, la firma e poi la bici del disagio su cui arriveremo. Ma la domanda poi è perché si chiede una tutela, o perlomeno lei quando lavorava all'account Twitter della Crusca sapeva molto bene quante richieste di sorvegliare e tutelare la lingua italiana arrivassero alla Crusca medesima. Ce n'è davvero bisogno? Fino a che punto? E quanto dovremmo imparare ad essere non scorretti, ma neanche indulgenti forse? Curiosi? Aperti? Elastici. Secondo me elastici, e ecco userò una parola che viene dall'inglese, adattivi. Così le catombe di messaggio è definitiva, cioè persone che si adattano al contesto. Intendo dire questo. Sì, quello che io ho vissuto in tanti anni di presenza all'Accademia era proprio una richiesta di regole, di leggi, di norme. In realtà le norme, le regole e le leggi ci sono e credo che sia una forma di, come si può dire, di lasciare la patata bollente in mano a altri, quella di volere che sia la Crusca vigilare. In realtà la Crusca non c'è bisogno che vigili, perché noi stessi abbiamo tutti gli strumenti per vigilare sulle nostre competenze linguistiche e nel caso offrire la possibilità di creare dei circoli virtuosi attorno a noi. Il che non vuol dire andare in giro bacchettando le persone, perché quello diventa antipatico, appunto, è la posizione da gran marnazzi, ma ognuno di noi può amare di più la propria lingua. È come avere, Tullio De Mauro diceva sempre che è un po', la lingua è come una cassetta degli attrezzi, e noi possiamo metterci dentro una quantità più o meno elevata di attrezzi. C'è chi ha pochi attrezzi e c'è chi invece ha tutte le brugole del mondo. Chiaramente avere tutte le brugole del mondo è la cosa più potente, da un punto di vista anche di quello che uno fa nella società, di posizione nella società. Il punto di vista del libro, di prima l'italiano, non è tanto di galateo o di difesa della lingua, ma è un tentativo di fornire una vera e propria guida di sopravvivenza all'interno della giungla dell'italiano, semplicemente perché, e qui torno a quello che accennavo all'inizio, noi siamo sottoposti a un grande scrutinio sociale in base a come usiamo l'italiano. E quindi, secondo me, per evitare che lo scrutinio sia negativo, è anche giusto avere delle competenze. Difendersi. Difendersi, sì, non è la lingua che va difesa. Siamo noi che ci dobbiamo difendere conoscendo bene la lingua. Facciamo un esempio, arriviamo al famoso paradigma delle dita, del nome delle dita, dei piedi. Sì. Che è interessantissimo, perché noi sappiamo, noi siamo abituati a chiamarli primo dito, secondo dito, terzo dito, quarto dito e quinto dito, alluce, via, eventualmente un mignolo. Sì. In realtà esiste una nuova nomenclatura. Sì, esiste, però è una nomenclatura spuria, potremmo dire. Cioè, non si sa da dove venga fuori ed è inventata, però è molto carina. Leggo una delle varianti. Ma li legga anche tutti, perché sono molto, molto graziose. Allora, dunque, a parte l'alluce, detto anche pollicione, no? Oditone del piede e abbiamo illice o melluce o dilluce o polluce, questo è il corrispondente dell'indice. Abbiamo trillice o trilluce, che sarebbe il medio. Pondulo, pondo, pondolo, pinolo o anulo, corrispondente all'anulare della mano. Minolo, minolo o mellino, il mignolino, insomma il mignolo del piede. Sembra di essere nella terra di mezzo di Tolkien, eh? Sì, o i sette nani, non lo so, tanti nani. Allora, ovviamente questi nomi piacciono, perché sono carini e sembrano anche ovviare a una mancanza che abbiamo nella nostra lingua. Mi sono fatta male al terzo dito del piede, diventa una cosa un po' medica, quindi mi sono fatta male al trillice, suona bene. Questo ha fatto sì che questi nomi avessero una grandissima risonanza in rete e adesso compaiono anche in manuali di medicine alternative, magari alcuni siti anche di riflessologia plantare, insomma, dove ci si occupa specificamente del piede. Però sono inventati, cioè non esiste, non hanno nessuna realtà, ecco, dal punto di vista medico o anche etimologico. Sono cose abbastanza recenti, quindi ecco, prima di cantare vittoria e di dire, ah, allora esistono i nomi delle dita dei piedi, bisognerebbe rendersi conto che sono una invenzione recente, quindi in realtà no. Allora, parliamo di miti o falsi miti, qualcuno l'abbiamo già evocato quando abbiamo parlato dell'amme-mi, anche se, attenzione, è arrivato un messaggio, non firmato, vabbè, no, firmato, Giovanni, forse, non so, non si capisce perché sono due insieme, ma se lo scriveva Manzoni, mica deve essere giusto per forza. Certo. Naturalmente. Poi però, poi c'è una domanda, è l'unica domanda molto carina e gentile, quindi rispondiamo, Alessia, si dice ginocchio-ginocchia, orecchio-orecchia, diti o dita? Ma questi sono i doppi plurali, e anzi si apre un argomento molto interessante perché quando si considera la coppia si usa il femminile, quindi le ginocchia, le orecchie, le dita. Quando si considerano più pezzi dello stesso ginocchio, dello stesso orecchio, dello stesso dito, è previsto che si possa usare il maschile. Infatti io racconto nel libro un episodio in ospedale, ho assistito io a questa scena, il medico ortopedico dice, questa settimana mi sono arrivate solo ginocchi sinistri rotti, come si è rotto i due diti indici, non le due dita indici, non saprei, indice. Quindi diciamo che se si considera la coppia, cioè la situazione più tradizionale, tipo mi fanno male le orecchie, mi fanno male le dita, mi sono rotto le ginocchia, quindi al femminile, quello sì, sono dei residui di neutri latini peraltro, quindi c'è una motivazione anche etimologica. Volevo un attimo tornare sul signora Memmi, che ha ragionissima. Ci abbiamo aperto veramente un... Non sa cosa, adesso se la stanno prendendo anche con Elsa Morante, menzogna e sortileggio. Vabbè, prosegua, prosegua. Anche con lessico familiare scritto col GL. Già, è vero. Insomma, non risparmiamo nessuno. No, il punto è questo, a me mi non è sbagliato a priori, a me mi è chiaramente un errore in una situazione in cui la norma deve essere controllata, cioè che sia un tema a scuola, dove lo segnerei errore, come in un discorso molto formale, per esempio il Presidente della Repubblica o io che mi rivolgo al Presidente della Repubblica. Allora eviterei a me mi. Però chiedo un attimo a tutti gli ascoltatori di riflettere su una cosa. Nel nostro privato, nella nostra lingua dei sentimenti, che magari è anche venata di regionalismi, se non di dialetto, a me mi ricorre appena siamo un po' distratti. Quindi quello che io dico nel libro è va benissimo nei contesti informali, stiamo attenti nei contesti formali. Ed è più o meno il discorso che si può fare per la maggior parte di questo tipo di, fra virgolette, errori. Che non sono errori sempre, ma rimangono errori in un contesto appunto di alta formalità. Accontentiamo anche Giovanni Damarsale, la prego, perché da lei vorrebbe sapere, non ci dorme la notte da tanti anni, se in un periodo che termina con una parentesi il punto va dentro o fuori. Facciamo dormire Giovanni. Allora, fuori? Punto. A meno che ci sono dei rari casi in cui potrebbe stare dentro, ma io direi se è frase, aperta parentesi, bla bla bla, chiusa parentesi, punto di tutta la frase, fuori dal punto. Allora, ci sono tanti falsi miti, dicevamo. Per esempio, uno di quelli che torna tantissimo, il benedetto, se posso usare questo aggettivo, plurale di curriculum. Sì, su quale ho visto dei grandi discussioni. Scannamenti, offese, il risico, come lei dice, è un risico. Sì, sì, comunque, come fai sbagli? Cioè, qualcuno è sempre scontento. Consolante. Sì, come dice il mio collega Bruno Mastroianni, non esiste la comunicazione felice, al limite esiste la disputa felice, no? Per cui, possiamo disputare, ma accontentare tutti è proprio impossibile. Ovviamente è latino, ovviamente il plurale in latino sarebbe curricula. Certo. E quindi, soprattutto nei contesti più alti, universitari, no? Persone così, molto colte, tendono a usare curricula, perché, fra l'altro, nelle lingue specialistiche succede che ci siano anche altri plurali che sono rimasti in A. Mi viene in mente, nel mio contesto, quello della linguistica, anche computazionale, i corpora, no? Il corpus di testo, il plurale fa corpora. È normale, lo usano tutti così. Quindi, per me curricula è normale, è la forma standard. Ciò detto, il latino è comunque anche una sorta di lingua straniera, anche se è la lingua dalla quale deriva l'italiano, eccetera, ma di fatto è una lingua straniera. Quindi, anche sottoporla alla regola che dice che la parola rimanga invariata, cioè che non si faccia il plurale, è corretto. Quindi, anche dire i curriculum è corretto. Direi che l'unica cosa da evitare, l'unico irco-cervo, come diceva Giovanni Nencioni, da evitare è curriculums. Con la S. Sì, all'inglese, no? I curriculums. Ecco, quello magari no, anche perché abbiamo già una ricca tradizione di modi di dire latini pronunciati all'inglese. Mi viene in mente abside della chiesa, abside. Io mi ricordo un sign day. Un sign day, esatto, anche sign day. E anche, oddio, par condition. La par condicio che diventa par condition. Ecco. Ecco, adesso mi sto sentendo male io, senta. Allora, ci sono tantissime cose ancora su cui potremmo discutere attorno a questo necessario libro, secondo me, necessario anche, divertente e utile. Però io vorrei fermarmi sulla famosa, sulla famosa ultima parte, quella che si intitola Bonus Track. Alzati, cammina e impara a fare da te. Ovvero? È tutta una sezione in cui, allora, partendo dal presupposto che possiamo anche smettere di lamentarci delle competenze altrui e lavorare sulle nostre, perché se no, insomma, noi siamo un po' lamentini, no? Signora mia, questi tempi odierni, signora mia, la gente, no? E così via. Allora, invece di questo, facciamo noi. Ognuno per sé, cerchi di migliorare le proprie competenze linguistiche, partendo da un presupposto. In lingua, come del resto un po' in tutti i campi, non si sa mai abbastanza. Quindi, è un esempio di quello che gli inglesi chiamano lifelong learning, cioè di imparare per tutta la vita. Si può sempre perfezionare la conoscenza linguistica e fra l'altro internet ci dà un sacco di modi per farlo. Quindi, i miei consigli sono intanto di smettere di prendere in giro gli altri, che è sempre una cosa sgradevole. Per questo io dico non essere grammar nazi, un nazista della grammatica, ma un gramamante, un amante della grammatica. E do, fra l'altro, una sfilza di collegamenti, di link a risorse credibili, cioè non il blog di mio cugino, ma Treccani, Sabatini Nicoletti, Lo Zingarelli, Edizionario Garzanti, spiegando ognuna di queste fonti che cosa offre e poi do anche qualche consiglio su chi seguire sui social, perché ci sono molti, anche giovani ragazzi, che mettono a loro disposizione del pubblico o con le storie di Instagram o con i loro canali su YouTube e così via delle pillole di informazione linguistica molto carine. Io lascerei con un consiglio preciso che è quando avete un problema specificamente di ortografia e pronuncia forse il miglior strumento cioè quello che anche noi in Accademia della Crusca usavamo per verificare le nostre conoscenze è il DOP, il Dizionario di Ortografia e Pronunzia che fra l'altro è sui server della RAI. Glorioso DOP. Esatto, perché nasce negli anni 50 proprio come strumento di ortofonia, di ortoepia per chi lavorava proprio in radio, in televisione ed è di Migliorini Tagliavini Fiorelli e lo trovate a www.dizionario.rai.it Beh ragà, è una meravigliosa in Prima l'italiano come scrivere bene e parlare meglio e non fare brutte figure pubblicato da Newton Compton nel libro e ci sarebbe ancora molto altro da raccontare in questo libro però credo che in chi ci ascolta si sia fatto un'idea del suo contenuto. Grazie, grazie di cuore per essere stata con noi. Grazie, un saluto. naturalmente grazie a tutti. Grazie a tutti.